Abbiamo voluto realizzare questo spot di divulgazione del 15-22 perché l'associazione Fortezza, con il contributo della regione siciliana, sassolato delle famiglie, delle politiche sociali e del lavoro, hanno ben pensato di essere più incisivi dando un messaggio alle donne che non sono da sole. Ancora oggi assistiamo a innumerevoli violenze sulle donne e il messaggio che vogliamo dare è che la violenza si nutre del silenzio, pertanto è importante denunciare, comporre il 15-22 anche in maniera anonima affinché questa violenza, questo muro possa essere abbattuto perché risorgere si può. La donna non è sola. Cambiare strada in questo spot ha anche il significato di cambiare pensiero. Dal pensiero sgorgano le azioni. Il pensiero qual è? Il pensiero è che hai diritto e nessuno può togliertelo di vivere una vita di benessere nella libertà di poterti esprimere come essere umano senza essere molestata, senza subire vessazioni, violenze di ogni tipo, domestiche, fisiche, verbali e fare assistere anche a queste violenze i propri figli. Quindi risorgere, puoi anche toccare il fondo, ma la vittoria deve essere quella leggera spinta di risalita attraverso il 15-22. Questo diritto alla tua libertà, alla tua vita più che abbondante perché è disponibile, è possibile. Quindi non ci stancheremo mai di promuovere iniziative di questo tipo e di dire sempre alle donne denunciate e componete questo numero perché non siete sole.